buonasera e non mi fai pensare una cosa perché l'altro giorno purtroppo ha deceduto una persona che era un grande interventista ad un altro programma quindi vabbè stiamo parlando della buonanima di donato ricci meglio noto a tutti come donato da varese possiamo fare una cosa una cosa rivoluzionaria cinque secondi di silenzio in uno streaming online ciao donato ci hai fatto sognare